ciao a tutti ragazzi oggi parliamo delle scott super track 3 se siete alla ricerca di una scarpa polivalente che vada bene un po su tutti i terreni che vi aiuti che abbia un bel sostegno che vada bene dai principianti alle persone anche un pochino più esperte questa è la scarpa che potrebbe far per voi quindi scopriamo il perché nella recensione completa inizio raccontandovi come ho testato questa scarpa ci ho corso fino a ieri il ferriere trail ma non solo l'ho provato anche nei sentieri attorno a casa ho fatto una parte di quello che è il trail grigne sud se non so se lo conoscete su questa scarpa ci ho fatto veramente tantissimi chilometri ci penso di averci passato oltre i 250 con tantissimo dislivello ma iniziamo a parlare di queste scott super track 3 partendo dalla suola suola oltre rain traction che mi ha convinto veramente tanto ci ho corso praticamente dalle strade di fondo valle alle creste e in tutte le situazioni mi ha convinto non è specializzata per per correre super veloce nelle strade di fondo valle o per fare delle sky race però al giusto livello di ottimizzazione per riuscire a fare bene un po tutto e da questo punto di vista sicuramente è un pregio come potete vedere troviamo dei tasselli belli grossi belli distanziati che hanno un'altezza di 5 mm e che danno sostegno anche sul fango si va a pulire molto velocemente questa scarpa e davvero va bene praticamente su qualsiasi terreno altra cosa non da poco viste le ultime scarpe che stanno uscendo la suola ricopre praticamente tutta la scarpa come potete vedere va dal tacco fino alla punta non abbiamo nessun punto in cui ci sia intersuola esposto continuando arriviamo a parlare dell'intersuola troviamo un'altezza di intersuola di 29 mm sul tallone e 21 sull'avampiede quindi con un drop di 8 mm l'8 mm sicuramente è un buon drop per chi vuole utilizzare le scarpe per fare gare molto lunghe cosa per il quale questa scarpa è pensata troviamo un aerofoam come imbottitura che mi ha soddisfatto utilizzata davvero per tantissimi chilometri non ha avuto nessun tipo di dolore di affaticamento i piedi non si sono mai stancati e allo stesso tempo è anche abbastanza reattiva non è super reattiva ci sono scarpe sicuramente molto più reattive ma per essere pensato come scarpa da ultra la reattività è abbastanza buona unica cosa si sta un po rovinando come potete vedere ci sono certi punti in cui si sta rovinando parecchio non ne inficia l'utilizzo però non vorrei che alla lunga questa cosa possa quasi andare a distruggere un po la scarpa continuiamo e passiamo a parlare alla tomaia iniziando dal suo puntalino puntalino bello duro ci prendiamo dentro rocce c'è radici nessun problema mai avuto un'unghia nera e per quanto riguarda invece tutta la tomaia in stampa dicendo che questa che ho io è la versione non in goretex se volendo invece anche la versione in goretex questa qua alla tomaia in ripstop un nylon bello resistente che offre anche un buon grado di protezione nel caso in cui ci dovesse cadere un qualche sasso addosso e mi ha convinto anche da questo punto di vista è una scarpa che poi mi è piaciuta tanto dal punto di vista della traspirabilità c'è corso ore l'ho anche bagnata sono finito con un piede dritto nell'acqua e si è asciugata in pochissimo tempo questo è indice di quanto può essere traspirante la scarpa continuando arriviamo alla fine a parlare del tallone un tallone bello alto bello imbottito che dà tanta protezione che ci evita che la caviglia faccia questo movimento soprattutto in discesa un tallone che mi ha convinto perché davvero è bello serrante il tallone dentro non si muove la scarpa resta sempre al suo posto davvero fatto molto molto bene e la linguetta linguetta che è bella morbida forse però un po' troppo grossa ogni tanto un po' in mezzo alle scatole fosse stata un pochino meno spessa un pochino più piccola l'avrei preferita non che dia fastidio però proprio giù proprio trovare il pelo nell'uovo e infine per quanto riguarda i lacci beh nulla da dire sono belli lunghi quello sì e vanno bene quindi nulla da dire per quanto riguarda poi la sezione dell'avampiede questa è abbastanza larga io ho preso il mio solito numero 47 mi ci sono trovato molto bene e anche correndoci tanto il piede si è andato naturalmente a gonfiare ma non ho avuto problemi di larghezza dell'avampiede parlando della soletta questa è in ortolite io mi sono sempre trovato bene con ortolite e anche questa soletta va a confermare le mie sensazioni infine arriviamo al tasto dolente di questa scarpa che secondo me è quello che fa da spartiacque tra chi la vorrà a comprare e chi no il peso è una scarpa che pesa 380 grammi nei versioni 42 nel mio 47 arrivo attorno ai 450 sono davvero tanti sono davvero tanti al piedi si sente soprattutto se magari come è successo a me venite da scarpe un pochino più leggere prima è una scarpa che non ci aiuta a correre veloce se siete persone che correte veloce nei tratti in piano quindi correte 4 30 5 al chilometro secondo me questa non è la scarpa che fa per voi questa scarpa qua va bene per persone che in gara camminano tanto corrono a ritmi abbastanza bassi quindi diciamo sopra i 6 6 30 al minuto diciamo per quelle persone che gli piace godersi la gara ma non cercano proprio la performance come ultima cosa per chiudere questa scarpa va super bene per quanto riguarda il trekking se volete utilizzarla per farci camminate trekking e via dicendo se siete abituati naturalmente utilizzare le scarpe da trail questa va veramente super bene perciò ragazzi nella speranza se siete stato esauriente e esaustivo io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e ci vediamo al prossimo ciao